L'intero sistema informativo vive una fase di forti cambiamenti a causa delle repentine innovazioni tecnologiche che hanno mutato la stessa fruizione delle notizie da parte dei cittadini, rivoluzionando i tempi e gli stessi controlli sulla loro accuratezza. La trasformazione digitale interessa ogni aspetto della nostra vita. Non vi è dubbio che essa offra opportunità straordinarie. Al contempo, la sfida per le nostre società democratiche è quella di evitare che l'accelerazione dei mutamenti comporti una regressione dei diritti fondamentali, derivanti da quella unità di valori indivisibili e universali sui quali si fonda l'Unione Europea. E' questo lo spirito che ha animato la Declarazione Europea sui diritti e principi digitali per il prossimo decennio digitale, proclamata in sede comunitaria nel 2023 e con cui si rafferma come debbano essere i valori e i diritti fondamentali a guidare le trasformazioni. La libertà e il pluralismo dei media garantiscono il pieno di spiegarsi di alcuni dei diritti irrinunziabili per la democrazia e la misurazione della sua qualità, il diritto alla libertà di espressione e di informazione.